Il personale della compagnia Carabinieri di Osimo ha permesso di debellare una banda costituita da quattro cittadini di nazionalità rumena che attraverso una serie di attività poste in essere ai danni di barra e aree di servizio, cosa facevano? Andavano a impossessarsi del contenuto del slot vaccino oppure delle apparecchiature per il lavaggio di sensibilità. Per svolgere questo tipo di attività si sono avvalsi anche dell'utilizzo di alcune autovetture fumate che rubavano in altre aree del territorio non solo della provincia di Alcuna ma anche della provincia di Mitrofe e nella fascia oraria tra 22 e 03 e 04 portavano a compimento questi eventi delitosi nell'ambito del territorio provinciale. Questa banda non solo gravitava nel nostro territorio ma periodicamente si riportava nella propria nazione di origine dove si riorganizzavano e sistematicamente poi a distanza di una settimana o 10 giorni ritornavano sul nostro territorio. Grazie all'attività dei militari operanti è stata individuata la banda che nell'ultimo episodio tra la notte del 7 e l'8 di aprile è stata seguita e colta in flagranza quando le località di Falconara sono stati corti mentre stavano portando a compimento il ventesimo attività femminile dai due distributori dell'esso.